Non lo so, ma io non penso che è la fisicità che fa la differenza, è quello che si esprime, cioè è quello che uno riesce a far passare. Quindi il fisico, cioè la trasformazione fisica serve fino a un certo punto credo, no? E quello è l'emozione. Io credo che il corpo serve per esprimere l'anima e la cosa bella è che il corpo invecchia perché fa parte di questa terra e l'anima no.